Piano energetico ambientale, indirittura di arrivo. Dipendenze e disturbi mentali, al valio una gestione integrata. Il 28 marzo sarà la giornata regionale per l'endometriosi. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. In apertura ci occupiamo del piano energetico ambientale al centro dei lavori dell'Aula di Palazzo Lascaris. È proseguito per l'intera seduta di martedì nell'Aula del Consiglio regionale l'esame della proposta di deliberazione sul piano energetico ambientale regionale, PEAR, che individua tra i suoi macro obiettivi la riduzione dei consumi, l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e la costante ricerca dell'efficienza energetica. Gli obiettivi sono quelli di arrivare al 2030, avere energia da fonti rinnovabili pari al 30%. Quindi è un grande obiettivo, molto complicato e in base a questo ci sono altre iniziative che ci portano appunto a migliorare la filiera dell'energia locale. Una cosa importante che voglio valorizzare è quella della biomassa. Noi importiamo anche il pellet dall'estero, quindi oltre il gas, oltre il petrolio, anche la biomassa. È un peccato perché è una fonte di energia rinnovabile molto importante sulle nostre valli. Poi c'è il revamping delle strutture e delle dighe e dei grandi invasi, anche se oggi manca anche l'acqua. Quindi diciamo che c'è una forte spinta entro il 2030 per abbattere inquinanti e essere più indipendenti. Dopo l'esame e la votazione di una quarantina di emendamenti sono stati illustrati una quindicina di ordini del giorno collegati, presentati da Marco Grimaldi, liberi uguali verdi, che precedono la votazione finale. L'unico emendamento approvato, sottoscritto dall'assessore all'ambiente ed energia Matteo Marnati, modifica la prefazione del provvedimento alla luce delle significative evoluzioni in Europa con la definizione del Green Deal 2030, che ha innalzato il target di riduzione delle emissioni di CO2 dal meno 40% al meno 55% nel 2030 e ha posto l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 per il continente europeo. Respinti gli altri emendamenti presentati da Marco Grimaldi. Sappiamo quanto il nostro Piemonte può dare a livello energetico, anche per essere sostenibile, anche a livello ambientale, per cui un piano vero sull'idroelettrico, che è la cosa che noi possiamo sfruttare di più di tutto. Abbiamo il discorso dell'idrogeno, che è un passo importante sul futuro, anche per la mobilità su ferro. È uno strumento importante per raggiungere fondamentalmente gli obiettivi di sostenibilità del Piemonte. Credo che il tema sia non solo molto attuale, ma molto sintonico a quel periodo che stiamo vivendo, perché la siccità che stiamo vivendo ormai da tanti mesi ci fa capire quanto sia importante ridefinire i nostri assetti energetici, quindi i nostri assetti dal punto di vista della sostenibilità di tutte le azioni che mettiamo in campo. Deve essere sviluppato senza dogmi, senza dettami ambientalistici, con un dialogo costante con le imprese per andare a formulare un piano energetico che possa essere di sostegno alla nostra imprenditoria, perché se crolla quella, crolla l'Italia. Questo è un piano che è poco ambizioso e che nasce in parte già vecchio, perché fa riferimento a dati che sono antecedenti al 2015, e non prende in considerazione risoluzioni prese a livello nazionale ed internazionale negli ultimi anni. A maggior ragione in un momento di forte evoluzione relativamente alla crisi climatica ma anche energetica. Dipendenze e disturbi mentali al vaglio una gestione integrata. Lo ha spiegato l'assessore alla sanità Luigi Cardi rispondendo al question time di Monica Canalis, Partito Democratico. Quali misure la regione intende attuare per garantire l'autonomia tecnico-gestionale e potenziare i CERD, Servizi Pubblici per le Dipendenze Patologiche del Piemonte. Questo l'oggetto del question time che la consigliera PD Monica Canalis ha rivolto all'Aggiunta regionale del Piemonte nell'ambito delle interrogazioni a risposta immediata in Consiglio regionale. Il rischio concreto è che i dipartimenti per le patologie da dipendenze del Piemonte, che sono un patrimonio storico della nostra regione, siano inglobati all'interno dei dipartimenti per la salute mentale delle nostre ASL. L'epidemiologia dei disturbi mentali e da dipendenza evidenzia una correlazione sempre più stretta fra i due fenomeni che richiede un utilizzo integrato delle risorse, ha evidenziato l'assessore alla sanità Luigi Cardi in una nota scritta. Al momento stiamo valutando l'accorpamento dei due dipartimenti. Un percorso alternativo potrebbe essere la costituzione di dipartimenti integrati salute mentale dipendenze che pur mantenendo una loro specificità favorirebbero azioni comuni per gestire bisogni complessi e un efficace coordinamento delle risorse. Il 28 marzo sarà la giornata regionale per l'endometriosi. Lo prevede una proposta di Alessandro Ste, collega approvata in Commissione Sanità. Il 28 marzo di ogni anno si celebrerà in Piemonte la giornata regionale per la lotta all'endometriosi, una patologia che può provocare l'infertilità nelle donne. Lo prevede la proposta di modifica della legge del 2017 presentata da Alessandro Stecco, lega e licenziata all'unanimità dalla Commissione Sanità presiduta dal vicepresidente Domenico Rossi, Partito Democratico. Lo scopo qual è? Mettere in condizione il sistema sanitario regionale di dare la migliore risposta ai cittadini. Questo passa attraverso informazione, attraverso un contatto con gli enti e le associazioni e col terzo settore che noi abbiamo messo in legge. Abbiamo messo anche la necessità di un centro esperto di coordinamento regionale che aiuti e supporti i centri minori o più piccoli che possono occuparsi di questo problema, è un problema diffusissimo. Stiamo parlando di 200-300 mila donne in Piemonte. La ricorrenza costituirà un'occasione per l'assessorato alla tutela della salute per promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla patologia e per l'osservatorio regionale per rendere pubblico lo stato dell'arte delle iniziative previste per il contrasto della malattia. Far crescere la consapevolezza sulla malattia da un lato, ma anche la vicinanza delle istituzioni alle tante donne che soffrono di questo problema. In queste settimane abbiamo fatto un po' di manutenzione alla legge perché c'erano dei problemi legati all'osservatorio che non riusciva a partire. Giornata internazionale della donna. Numerose le iniziative promosse dal Consiglio regionale del Piemonte. Il coraggio che le donne dimostrano in tutti i ruoli che rivestono e in tutte le situazioni anche le più drammatiche è il filo conduttore delle iniziative promosse dal Consiglio regionale in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna che si è celebrata l'8 marzo. Le donne nei momenti di difficoltà hanno da sempre avuto uno straordinario coraggio per affermare se stesse nel compiere quel cammino di emancipazione per l'intero genere femminile, dichiara Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale. La loro tenacia e il loro coraggio hanno fatto la differenza nell'affrontare i soprusi e nel far sentire la propria voce nella difesa di quei diritti fondamentali per una giusta dignità umana. Anche nel dramma del conflitto che ha investito l'Ucraina la loro vocazione a costruttrici di pace sarà determinante per far prevalere la giusta armonia e la reciproca comprensione tra gli individui. Proprio nell'anno in cui l'attività del Comitato regionale diritti umani e civili è incentrata sulla tutela dei diritti delle donne e sulle donne che sono in prima linea nella difesa dei diritti dei più deboli il Comitato, insieme con la consulta femminile regionale ha organizzato il convegno La guerra delle donne in programma venerdì 11 marzo alle 10.30 nell'aula di Palazzo Lascaris. Un incontro voluto per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti violati ed esprimere vicinanza ideale alle donne che oggi stanno vivendo la situazione tragica della guerra spesso sopportandone il peso maggiore come sta accadendo ora in Ucraina. Tra i relatori il console onorario dell'Ucraina Dario Arrigotti Mari-Jean Balagisi Sifa, coordinatrice del Forum delle donne africane italiane e Ilenia Serra, garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS